Allora ragazzi, la Roma vince per la seconda volta consecutiva per 3-0 contro l'Istanbul Basak Sehir dopo la vittoria ottenuta contro il Brescia andiamo a quota 8 punti complessivi nella classifica del girone, non ricordo la lettera e arriviamo quindi all'ultima giornata con tutte le carte in regola per poter non solo passare i sedicesimi ma anche come primi dopo la sconfitta con il Borussia tutti quanti ci siamo voluti a fare i pensieri basta pareggiare con l'Istanbul e vincere con l'Istanbul, invece abbiamo vinto 3-0 qua senza nessun patema e quindi ci siamo portati molto più avanti per il proseguo appunto di questa competizione una competizione al quale io personalmente tengo veramente tanto per questo questa vittoria per me acquisisce una importanza ancora più maggiore una vittoria che guardando come è andata la partita è apparsa fin troppo facile ecco, allora io non dico mai che la Roma vince in maniera facile perché anche col Brescia abbiamo vinto 3-0 e il secondo tempo potevamo farne 5-6 però al primo tempo ho comunque fatto capire, ho detto che secondo me la Roma non aveva proposto un bel gioco si era fatta chiudere dal modulo di 11-0-0 del Brescia e non eravamo riusciti a essere cinici davanti questa partita invece dopo mezz'ora diciamo equilibrata e dopo essersi sbloccata con il rigore di Veretout è stata proprio una passeggiata clamorosa, cioè si è finita 3-0 e il terzo gol è arrivato alla fine del primo tempo però nel secondo tempo abbiamo semplicemente gestito palla e abbiamo avuto anche altre occasioni per segnare perché se la Roma avesse voluto realmente pigiare sull'acceleratore senza pensare appunto che domenica c'è il Verona cosa che invece i giocatori hanno pensato e lo stesso Fonseca sarebbe potuto finire anche 5-6-0 ma ovviamente è inutile secondo me andare troppo a massacrare una squadra sapendo che comunque non deriva da questa il raggiungimento del primo posto nel girone perché anche se avessi vinto 20-0 purtroppo hai scontri diretti a sfavore col Borussia per motivi che tutti quanti sappiamo con 3 gol di cui 2 irregolari ma vabbè lasciamo perdere e quindi ovviamente non è che ti giochi nulla con loro anche se lo ripeto ancora una volta se la Roma avesse giocato con un pizzico di precisione in più e fortuna dal punto di vista arbitrale poteva arrivare a questa partita già con 12 punti quindi sarebbe stato ancora molto più semplice però ovviamente non dobbiamo fare gli esagerati perché se siamo arrivati a 8 punti in un girone secondo me come disse Mastrangelo anni fa dei cartoni animati un po' è anche colpa nostra perché sì, i due gol col Borussia sono irregolari per Tottenham è preso uno sciocco al 95esimo e soprattutto ai pareggiati in casa del Vosberger che dopo aver fatto quell'exploat clamoroso in casa del Borussia ha fatto solamente il pareggio con te e poi l'ha perse tutte quindi non parliamo certo di uno squadrone della partita c'è tanto e poco da dire perché comunque, ve lo ripeto, a livello di equilibrio non c'è stata proprio storia una cosa che mi è piaciuta particolarmente e che ho notato sia oggi che contro il Brescia è che la squadra dopo aver segnato si è sbloccata un atteggiamento che può essere visto sia da un punto di vista positivo che negativo negativo perché vuol dire che magari bisogna migliorare nell'approccio di gara cioè bisogna essere pronti e agguerriti fin da subito non che non lo siamo stati stasera per carità però ci siamo sbloccati soprattutto dopo il gol però è una cosa da un'altra parte positiva perché dopo aver segnato non ci vogliamo fermare non ci crogeriamo sugli allori non pensiamo che l'1-0 possa essere un risultato tranquillo ed infatti non lo è mai contro nessun avversario e praticamente oggi, dopo l'1-0 in un quarto d'ora abbiamo liquidato la pratica liquidato la pratica e adesso arrivo all'analisi dei giocatori singoli grazie a due assist di uno strepitoso pellegrino un giocatore che, a dirla tutta, ci è mancato cioè è un giocatore per il quale io non ho mai straveduto così tanto cioè non lo considero un fenomeno, un giocatore incredibile però è un giocatore che quando è in forma ti sforna giocate veramente di alta classe perché gli assist per il secondo ma soprattutto per il terzo gol sono perfetti perché sul secondo gol ha fatto un grande assist ma deriva da un altro bel lancio di Kolarov e soprattutto c'era molto spazio per Klivert per poter andare appunto solo davanti al portiere il terzo gol invece è una genialata perché ha dovuto proprio prendere le misure precisamente per trovare quell'angolino in cui Dzeko si era infilato e poi il Bosniaco con un tocco sotto l'ha messo alle spalle del portiere per il 3-0 che ha chiuso la partita ancora prima di iniziare il secondo tempo del secondo tempo parlerò poco ma c'è un episodio che mi ha fatto imbestialire veramente imbestialire cari turchi se state rosicando perché in due partite ne avete presi 7 e ne avete fatti 0 prendetevela con i vostri giocatori ovviamente senza atti fisici ma magari insultandoli non lanciando oggetti verso i nostri giocatori che stanno semplicemente facendo il loro lavoro perché quello che è successo allo stesso Pellegrini prima della battuta di un calcio d'angolo è stato vergognoso un lancio di un oggetto che poteva anche portare alla squalifica del campo che arriverà secondo me ma anche alla sospensione della gara in alcuni casi è successo che per cose di questo genere la partita è stata sospesa e invece Pellegrini secondo me ha fatto un'ottima cosa perché non ha fatto sceneggiate non se le è presa più di tanto anche se aveva secondo me anche il diritto di prendersela perché non si possono lanciare oggetti diversi giocatori tra l'altro è stato anche un bello spacco sulla fronte perché è riuscito a parecchio sangue ma si è semplicemente avvicendato a cambiarsi a mettersi la bende e ha ricominciato a giocare come se nulla fosse questo è l'atteggiamento giusto per evitare polemiche contro questi animali quindi sono proprio contento che con questi tifosi siamo riusciti a massacrarli all'andata e al ritorno io non sono uno che gode troppo delle pene altrui ma questa sera godo tanto godo tanto perché con atteggiamenti del genere sono contento che le abbiamo uccisi calcisticamente parlando tra l'altro poi questa squadra mi fa morire da ridere perché ha giocatori come Robinho Dembabà Arda Turan Clisci è tutta gente che nei loro anni gloriosi hanno fatto anche bene ma sono venuti tutti quanti a sempre tra virgolette morire calcisticamente perché proprio Robinho c'ha una panza che non si vede Clisci ha sbagliato anche lui un sacco di passati veramente cioè parlano solo con i nomi quindi non so perché hanno fatto questa accozzaia di di gente forte solo a nome ma vabbè forse per vendere più magliette non si sa comunque ragazzi allora questa era la recensione di Istanbul Basakseir Roma 0 a 3 l'ho pronunciato correttamente spero di sì spero di non aver dimenticato niente anche se comunque ve lo ripeto c'è poco da dire perché soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto proprio melina tranquilla proprio passaggi senza troppi senza troppi difficoltà quindi la difesa ha giocato bene Santon buona partita Kolar aveva leggermente meno ma ha fatto il lancio per il gol del 2-0 al centrocampo molto bene Di Avarà ancora meglio Veretù e davanti siamo stati cinici gli unici che non mi sono piaciuti sono Spinazzola e soprattutto Honder che o per la trippa o per la paura che i tifosi ex tifosi gli menassero qualora fosse riuscito a segnare è entrato in campo con la voglia del Perotti visto contro il Borussia voglia che si avvicina palesemente allo zero un saluto dal vostro gladitore giallorosso ci vediamo domani per il video delle pagelle in cui analizzerò bene le prestazioni di ogni singolo giocatore mi raccomando ragazzi se siete arrivati a questo punto scrivete qua sotto nei commenti Crash Bandicoot frase a caso lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi lascio ovviamente sotto il link per il gruppo Telegram e per poter acquistare se ovviamente vi va il biglietto per Roma Torino con il codice sconto codice sconto con la promo scuttudenti che vi permetterà di acquistare il biglietto a soli 15 euro un prezzo che per vedere la Roma all'Olimpico è veramente irrisorio un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi